Putiferio a Cellino, Romina confessa la notte di passione con Albano, così ha tradito Loredana. L'ha lecciso furiosa Una indiscrezione potrebbe svelare il motivo per cui Romina Power ha dovuto abbandonare Cellino San Marco dopo una lite con Loredana a lecciso A quanto pare la cantante avrebbe passato una notte di passione con l'ex marito dopo l'ultimo festival di Sanremo che li ha visti insieme come ospiti Gia al tempo i due erano stati avvistati nello stesso hotel e qualcuno aveva ipotizzato che avessero condiviso anche la stessa camera Ma le illazioni erano morte sul nascere e nessuno ne aveva più parlato. Fino al punto in cui Romina avrebbe lasciato troppo intendere che tra lei e Albano non ci sia solo un rapporto tra ex ma anche qualcosa di più La goccia che ha fatto traboccare il vaso? La lettera che la Power ha scritto all'ex marito per il suo compleanno e che il cantante non ha voluto leggere a Domenica in Insomma la notte di passione c'è stata oppure no? A quanto pare Romina l'avrebbe fatta intendere anche alla stessa Loredana mentre Albano avrebbe sempre negato un riavvicinamento che non sia solo professionale Proprio per dissipare i dubbi, il cantante di Cellino ha spiegato in una intervista che vede Romina solo come una sorella Insomma una dichiarazione fatta proprio per placare l'Alecciso? In molti l'hanno vista proprio così Anche perché in una precedente intervista, che risale proprio a poco prima di Sanremo Albano aveva dichiarato che l'amore verso Romina non sarebbe mai finito per poi dire adesso devo andare solo in America Insomma una frase molto distante dalla seconda dichiarazione. Perché quindi tutto questo? E perché proprio dopo Sanremo Loredana sarebbe andata su tutte le furie? Fatto sta che l'Alecciso avrebbe posto un ultimatum, e Cellino o lei o la Power e la scelta sarebbe stata quindi spuntata Non solo, Romina a questo punto avrebbe chiamato Albano proprio per dirgli di placare la compagna Insomma un litigio senza più punto di ritorno A dimostrazione di ciò c'è anche il fatto che la Power ha trascorso il suo compleanno da sola insieme ai figli e senza alcuna visita da parte dell'ex consorte con cui si scambierebbe a malapena qualche parola Che quindi un ritorno di fiamma tra i due ci sia stato ma Albano si sarebbe infine pentito Di sicuro non c'è niente di certo e ci sono solo ipotesi al riguardo, ma sicuramente il cambio di atteggiamento repentino dei tre soggetti coinvolti lascia molti dubbi Grazie